Ben trovati, sono il dottor Michele Labianca, coordinatore della Task Force Coronavirus della Regione Basilicata. Una breve scorsa ai dati Covid-19 già diffusi dal bollettino della Regione Basilicata. Il 3 novembre, dai laboratori presso strutture ospedali repubbliche convenzionate della Regione, sono stati processati complessivamente 1.643 tamponi molecolari per un totale complessivo di 109.904 tamponi dall'inizio dell'epidemia. Sono state riscontrate come positività totali 224 in residenti nella Regione Basilicata, alle quali si aggiungono altre due in residenti in altre regioni italiane o in paesi esteri, ma in isolamento in comuni della Regione Basilicata. Le rimanenti 39 positività sono da attribuire ai residenti della Regione Puglia che sono lì in isolamento. Questi tamponi che riguardano soggetti che hanno utilizzato la disponibilità dei laboratori convenzionati della Regione non rientrano nel computo totale dei positivi della Regione Basilicata. Sul totale dei casi, tra i positivi odierni, risultano prevalenti quelli di sesso femminile rispetto a quelli di sesso maschile. L'età media tra i casi continua a rimanere quella adulta. Nel sesso femminile l'età media è di 46 anni rispetto a quella di sesso maschile che si mantiene intorno ai 44 anni. Sale l'età media dei pazienti attualmente ricoverati nelle strutture Covid dedicate della Regione Basilicata e l'età media che è di circa 70 anni in entrambi i sessi. Per quanto riguarda altre notizie, alcune considerazioni sui tamponi effettuati. A prescindere dal dato numerico complessivo che vede alla data odierna un aumento numerico dei tamponi, la percentuale di incremento dei casi positivi nella settimana di riferimento rispetto alla media nazionale del 22% si attesta per la Regione Basilicata intorno al 30%, con un incremento percentuale dei casi che è superiore alla media nazionale, eccetto che in ulteriori quattro Regioni che hanno un trend superiore. Il rapporto casi positivi numero totale dei tamponi effettuati sale al 14%, quindi in aumento rispetto al bollettino precedente. Ciò testimonia la circolazione del virus nel territorio regionale e indica, testimonia in qualche modo, un sovraccarico del sistema di tracciamento e isolamento dei nuovi focolai. In controtendenza un dato che si riferisce al rapporto percentuale dei casi positivi totali dall'inizio della pandemia sui casi totali testati, che in Basilicata, come anche nella Regione Calabria, si attesta a percentuali intorno all'8-9%, una delle più basse in Italia, percentuale che sta ad indicare una bassa tendenza all'infezione, rispetto alle popolazioni di altre Regioni che hanno numeri ben più ragguardevoli. Per quanto riguarda i casi positivi per Covid-19 nella Regione, 89 sono attribuiti alla provincia di Potenza e di questi 4 interessano il capoluogo. I rimanenti 85 sono distribuiti in 26 comuni della provincia. 137 casi invece sono attribuiti alla provincia di Matera e di questi 41 interessano la città di Matera e i rimanenti 96 sono distribuiti in 17 comuni della provincia. Il totale dei ricoverati presso strutture ospedaliere lucane Covid-19 dedicate è in aumento rispetto al bollettino precedente, così come il numero dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva, rispettivamente 6 a Potenza e 9 a Matera. Non si sono registrati decessi associati a Covid-19 in dato odierna e il numero totale dei decessi dall'inizio della pandemia rimane a 54 decessi. I guariti nei giorni presi in esame sono 11, con un totale di 661 unità. I positivi Covid-19 residenti sono complessivamente 1.870, mentre i residenti in isolamento domiciliare sono 1.776. Alcune considerazioni in base ai dati presentati. Anche in Basilicata, come nel resto d'Italia, si assiste a una graduale tendenza al trend di aumento giornaliero dei casi positivi per Covid-19, con aumento degli indici adesso correlati di cui abbiamo precedentemente parlato. Si stanno potenziando sul territorio tutte le attività relative alle capacità diagnostiche al tracciamento dei casi e, per quanto riguarda le strutture ospedaliere, la pressione sui reparti di medicina e di terapia intensiva degli ospedali Covid dedicati della Regione rimane al momento al limite della soglia critica. Si stanno mettendo in atto tutte le iniziative e compiendo tutti gli sforzi possibili per aumentare i posti letto e il trattamento dei pazienti Covid-19 positivi, garantendo comunque l'attività ordinaria dei presidi ospedalieri. Altre considerazioni emergono dall'esame di dati relativi, ad esempio, all'età media riscontrata nei casi positivi odierni, registrati in alcuni comuni della provincia di Matera, dove si riscontrano focolai di Covid-19 con numerosità abnorme. I positivi non si sono registrati in case di riposo, ma coinvolgono una fascia di popolazione adulta che si attesta come età media che va dai 35 ai 36 anni per i soggetti di sesso maschile ai 36 ai 49 anni per i soggetti di sesso femminile. Questo può rappresentare un segnale indiretto del fatto che probabilmente non vengono attuate le misure preventive individuali e collettive previste per prevenire l'infezione e la trasmissione del contagio da coronavirus nella popolazione, il cui risultato è l'aumento della pressione sui servizi territoriali ospedalieri che potrebbero rendere insufficienti gli interventi del sistema sanitario a fronte dell'aumento incontrollato dell'infezione e dei conseguenti casi di malattia. Ringraziandovi per l'attenzione, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo intervento.